in campo domani? Penso che noi dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro al campo e non quello che succede fuori, quindi dispiace magari non avere tanti tifosi del Napoli perché la partita viene giocata qua, però sicuramente ci seguiranno da Napoli, faranno il tifo per noi e noi in campo faremo di tutto per vincere questo trofeo che è importante per tutti, per noi, per la società e come ho detto anche per tutti i tifosi. Grazie. Carola? Sì. Se vuoi pensare un calcio. Un attimo, scusate. Ci facciamo prima, la difesa con l'uno, fanno domani dentro. Ok, allora, buongiorno mister. Il calcio ha sempre più tifosi in Arabia, cosa significherebbe una vittoria domani per il Napoli, per il nome, il fascino del Napoli in questa parte del mondo? Io credo che il Napoli, grazie al campionato che ha fatto l'anno scorso, è già conosciuto nel mondo, ma già ai tempi in cui ero qua siamo arrivati in Champions, si parla di ora non mi ricordo di preciso se sono 12, 13, 14 anni fa e da quel momento con la guida del presidente De Laurentiis il Napoli è quasi sempre stato nelle coppe, quindi è una realtà che diciamo che esiste in modo tangibile da diversi anni, quindi sarebbe ancora di più, però credo che il Napoli ormai è una squadra appunto che è conosciuta a livello mondiale, non credo che ci siano dubbi. Grattino, e poi la presidenta dello sport. Sì, a Di Lorenzo, questa è stata una stagione ed è ancora una stagione molto particolare, quanto è importante questa finale anche perché è probabilmente la grande occasione per conquistare un trofeo importante dopo lo scudetto? Ma è un trofeo importante, siamo qui a giocarcelo per quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione, però riuscire a conquistare, riuscire a vincere potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per affrontare poi la seconda parte di stagione, quindi la squadra è concentrata per la partita di domani e metterà in campo tutte le forze per cercare di alzare questo trofeo. Al signor Mazzarri, è più importante per lei questa finale o per la squadra e per riscattare la stagione? Grazie. Per me in che senso, scusi? Per me personalmente? Per lei, per il suo palmares. No, è chiaro che in 23 anni di carriera è capitato la seconda volta di fare una finale così e spero di poter questa volta alzare il trofeo, questo sì, ma perché è la competizione di un allenatore che ha fatto quello che ha fatto, se gli capita di competere per per questo premio, chiamiamolo premio, ben felice, altrimenti sono contento dello steso perché non tutti gli allenatori che partano da zero come me si possono permettere di arrivare due volte a giocarsi alla finale della Supercoppa nostra, quindi sono già orgoglioso e contento dove sono arrivato. Per la squadra? La squadra è la cosa più importante, ecco perché siccome non mi aspettavo il discorso personale, perché la squadra per me è importante, gliel'ho detto, sono ragazzi bravi, giovani, hanno vinto uno scudetto, non credo sia facile per tutti ripetere una Supercoppa, quindi devono approfittarne per poter portare a casa questo ambito del trofeo. Quello è lo stimolo che ho già detto ai ragazzi che domani ripeterò prima della gara. Gazzetta dello Sport, poi Corriere dello Sport. Prima Giovanni, prima il mister? È uguale. Parto da Giovanni. Avete cambiato assetto tattico, con questa difesa un po' più coperta, insomma, ma tra i dietro pensi sia più facile magari gestirsi nella marcatura di Duram e Lautaro che in questo momento è la coppia, forse anche in Europa, tra le più forti? Ma io penso che al di là del modulo poi conta come uno lo interpreta, quindi sulla carta può essere visto come un modulo più difensivo, ma poi in campo i movimenti è un modulo insomma che ci porta con tanti giocatori anche in fase offensiva. Per quanto riguarda l'Inter sicuramente affrontiamo una grandissima squadra con una coppia d'attacco che sta facendo veramente bene e dovremmo essere bravi in difesa, ma insomma l'aspetto difensivo coinvolge tutta la squadra, quindi dovremmo essere bravi in fase passiva a limitare le loro caratteristiche e poi una volta recuperato il pallone mettere in campo le qualità perché insomma siamo una squadra forte e sono sicuro che faremo una grandissima partita anche noi.